Anticipazioni dei Dreamer Lunedì 22 giugno 2020 Dopo essere finita nella piscina per un errore, Sanem è completamente bagnata. Emre la invita ad andare nella sua camera per cambiarsi, ma quando vi si reca scopre che è occupata da Dairen. Sanem così decide di andare nella stanza di Jeanne, che conosce bene. Quest'ultima quindi si toglie i vestiti per metterli nell'asciugatrice, ma visto che l'elettrodomestico impiega troppo tempo, Jeanne entra nella sua stanza e si appresta a fare la doccia. Così scopre Sanem, che, imbarazzatissima, indossa una maglietta del fotografo ed è ancora tutta bagnata. Jeanne si augura che la ragazza fosse lì in attesa del suo arrivo, ma immediatamente Sanem spiega che si è bagnata, che avrebbe dovuto usufruire della stanza di Emre, ma purtroppo era già occupata. Per questo motivo non ha potuto fare altrimenti che indossare la sua maglietta e usare l'asciugatrice. Jeanne inizia a ingelosirsi moltissimo e non comprende per quale ragione la ragazza preferisse andare nella stanza del fratello. I due iniziano quindi a battibeccare, ma il rumore dell'asciugatrice, che ha finito il suo compito, li distoglie. I due iniziano quindi a battibeccare, ma il rumore dell'asciugatrice, che ha finito il suo arrivo, ma il rumore dell'asciugatrice, che ha finito il suo arrivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.